Irina Shayk e il makeup perfetto per valorizzare gli occhi verdi Irina Shayk è una donna elegante, raffinata e con un fascino unico, i suoi lineamenti tartare la contraddistinguono da ogni altra modella del momento Non è un caso infatti che abbia conquistato il cuore di un autentico sex symbol di Hollywood, l'attore Bradley Cooper, dal quale ha avuto anche una figlia In ogni sua apparizione in pubblico, la Shayk è perfetta e dimostra uno charme ineguagliabile, ma come fa ad essere sempre bellissima, anche senza sfoggiare un trucco eccessivo? Una delle sue principali caratteristiche infatti è la predilezione per un look naturale, che valorizzi i suoi lineamenti e in particolare gli occhi verdi, senza eccessi Un makeup da star come Irina Shayk Carnagione olivastra, capelli castani e occhi verdissimi, Irina Shayk non è la tipica bellezza russa, ma i suoi tratti si avvicinano più a quelli tartari, regione dalla quale proviene Per apparire sempre al massimo della forma, come una vera star, la Shayk utilizza un makeup molto semplice, lasciando gli smokey e se altri trucchi più elaborati, solo per le occasioni davvero speciali Nella vita di tutti i giorni invece, la priorità è valorizzare il taglio e il colore degli occhi, come? La prima cosa da fare è creare una base uniforme con un primer su viso e collo, seguito da un fondotinta con una textura leggera per non appesantire la pelle Un prodotto immancabile e inoltre l'illuminante, da spalmare su fronte, naso e mento in modo da rendere il viso più luminoso. Ora che la base è realizzata, si passa agli occhi, è sufficiente utilizzare un ombretto nude e un mascara Il primo renderà lo sguardo più luminoso, mentre il secondo servirà per dispiegare le ciglia allungandole. Il risultato è uno sguardo intenso e magnetico, in cui il colore verde degli occhi risalta in primo piano Per finire, si può applicare un lucidalabbra o un rossetto nude che ammorbidisca le labbra I look magnetici della top model. Era il 2007 quando Irina Sheik venne scelta come testimonial di Intimissimi ed allora, la sua carriera ha visto un'ascesa straordinaria Ha varcato le passerelle di tutto il mondo e ha collaborato con brand di rilevanza internazionale, non c'è dubbio che la sua bellezza tartara abbia conquistato non solo il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori del fashion system Irina Sheik sa come mostrarsi in pubblico in ogni occasione e ciò che emerge di lei è la sua semplicità, non servono make-up troppo elaborati, o outfit provocanti e look straordinari per apparire come una vera star Per la top model sono sufficienti i suoi occhi verdi, la sua personalità carismatica e il suo sguardo magnetico. La Sheik si è mostrata spesso indossando un outfit casual composto da jeans, t-shirt, maglione e stivaletti, da vera donna in carriera Oltre a questo però non sono mancate le occasioni in cui la modella ha sfoggiato un look più sofisticato con ampie gonne, top di seta e sandali, oppure da femme fatale con una mini-gonna e un bomber In ogni occasione, la Sheik sa come valorizzare il proprio corpo, mostrandosi come una diva da altri tempi Ciao